E ciao ragazzi, non credo benvenuti in questo video Raga, devo parlare anche piano perché sono le 10.50 di sera E torna anche la serie che fine hanno fatto Quest'oggi faremo il Leicester che vinse la Premier Era la stagione 2015-2016 Oltre a vincere la Premier League con 81 punti A più 10 della seconda, che era l'Arsenal, che è arrivato con 71 punti Nel FK arrivò al terzo turno e venne battuto dal Tottenham 2 a 0 Poi Il Caraba Cup arrivò al quarto turno Perdendo contro l'Al City ai rigori 6-5 E basta perché la Champions non la fece La Torredi con la cavalcata era Mester Ranieri Che aveva 64 anni Adesso scena a 72 E allena il Cagliari Schmeichel Poi c'era Schmeichel 29 anni 37 E ora gioca all'Hunderlegg Sto passati 8 anni Hammer 28 anni 36 E ora gioca al Watford Schismbuzzer 43-51 Si è ritirato Madisson 21 anni 29 Anche lui si è ritirato Cioè a 29 anni Cioè si è ritirato Poi Hood 31 anni 39 Si è ritirato Amartey 21-29 E gioca al Beshittas Benalwane 29-37 Ed è svincolato Morgan 32-40 E' ritirato Moore 23-31 Svincolato Walsilevski 36-44 Si è ritirato Futz 30-38 Si è ritirato Chilwell 19-27 Gioca al Chelsea Kunkeschi 35-43 Si è ritirato Simson 29-37 Gioca al McLeishfield Che dovrebbe essere una squadra irlandese Nelite 27-35 Gioca al Ambersa Kante 35-33 Gioca all'Altiad Hiller 32-40 Gioca al Beshittas Greenwater 26-34 Si è ritirato King 27-35 Gioca al Bristol James 24-32 Gioca al Bristol Anche lui Mamond 33-41 Si è ritirato Agbry Gatton 26-34 Gioca ancora Leicester Loop 23-31 Gioca al Crystal Palace Grey 20 anni 28 Gioca al Al Atifak Lavarenz 22-33 Gioca Rangers Do 21-29 Ed è svincolato Marez 25-33 Gioca al Al Hali Anche lui in Arabia Di Di Iero 28-36 Si è ritirato Panag I 8 21-39 Gioca al Bruno Is Mad Bruno Magpissa Una squadra Dello stretto Di Gibiltero Gigliardi 29-37 Gioca Leicester Okazaki 30 anni 38 Gioca al Sinte Twiden Usho 29-37 Si è ritirato Kramaric 25-33 Gioca Lofenheim E Blitma 23-31 Gioca Al Brandford Che non è una squadra Non è una squadra inglese Ma è un altro tipo di squadra Che non ho capito bene di dove Comunque raga Per questo è tutto Iscrivetevi Attivate la campanella E noi ci vediamo come sempre Con un nuovo video Ciao raga Ciao a tutti